Palermo, 8.30. Oggi sono qui per un motivo speciale. Vado a visitare il convento della gancia. Alle nove sono già tutti operativi. Tra un po' arriveranno gli ospiti. È così che chiamano le persone che verranno a mensa. Poi qua, come vedete, la porta è sempre aperta per tutti. Le parole di Fran Michele entrano attraverso il cuore. Non è il denaro che ci fa ricchi, ma è il cuore. Adesso è ora di pranzo. La mia permanenza è terminata, ma mi accompagneranno in modo permanente le immagini di questa fratellanza.